Nicola è andata benissimo all'esordio, questo gol bellissimo che è nelle tue corde, è una prova a tutto cuore, che è la tua caratteristica principale. Sì, domenica è stata una bella partita, la partita perfetta diciamo, a prescindere dal gol sono felice che la squadra ha ottenuto i tre punti e dobbiamo continuare così. Il ginocchio come sta? No, il ginocchio è stata solo una botta, niente di grave, per domenica siamo in campo, sono a disposizione del mister. Tu hai ritrovato Pino Di Meo con il quale hai dato il meglio di te nella tua carriera, adesso sei tornato tra i professionisti, te l'aspettavi di rientrare di nuovo in questo modo da protagonista? Ma da protagonista è una parola grande, io mi metto sempre a disposizione della squadra, ringrazio il mister che mi ha dato questa possibilità di riaffacciarmi di nuovo nei professionisti e niente, speriamo di continuare così e dare il meglio per il Chieti. Dove può arrivare questa squadra secondo te? Ma è una squadra giovane che può ambire al salto, diciamo, alla permanenza unica in C1, che è la categoria che tutta la città si aspetta e niente, dobbiamo continuare a lottare e continuare su questa strada che è la strada migliore. Sbaglio o ti vedo particolarmente soddisfatto, contento, stai bene nell'ambiente e tutto quanto? Sì, sì, a Chieti mi trovo benissimo, è una città molto accogliente, diciamo, mi è accolto molto bene e speriamo di toglierci tante soddisfazioni.